terzo e ultimo video dedicato al futurismo avevamo concluso il video precedente dicendo che allo stesso tempo sempre al fine di rendere il dinamismo oggetti, colori e piani si intrecciano in quelli che vengono definiti contrasti simultanei possiamo procedere quindi il dinamismo dei treni e degli aeroplani ma anche delle azioni quotidiane ad esempio un cane che scodinzola andando a spasso con la padrona o una ballerina è sottolineato anche dall'uso del colore e dal tipo di pennellata che può essere spigolosa e veloce ma anche lineare, intensa e fluida se il moto è più armonioso nel febbraio del 1910 i pittori Umberto Boccioni, Carlo Carrà Giacomo Balla, Gino Severini e Luigi Russolo firmano il manifesto dei pittori futuristi e nell'aprile dello stesso anno il manifesto tecnico della pittura futurista nei quali esaltano la tecnica il dinamismo, la velocità, l'industria il militarismo, il nazionalismo e la guerra dichiarando la loro completa fiducia nel progresso e decretando la morte delle vecchie ideologie che bollano con il termine di passatismo la prima importante esposizione futurista si tiene a Parigi presso la galleria Bernheim Jeune dal 5 al 24 febbraio del 1912 mostra a cui partecipano Marinetti Boccioni, Carrà, Severini e Russolo l'accoglienza iniziale è fredda ma nelle settimane successive il movimento susciterà un certo interesse tanto che la mostra verrà riproposta anche in altre città europee come Berlino tra i maggiori pittori futuristi ricordiamo i già menzionati Boccioni e Balla attivi anche nella scultura la pittura di Boccioni è stata definita simbolica il dipinto del 1910 intitolato La città che sale, ad esempio è una metafora del progresso rappresentato dalla potenza del cavallo imbizzarrito e dalle scene di cantiere edile sullo sfondo lo stile di Balla è invece fotografico e analitico legato ancora a principi cubisti nell'opera del 1912 intitolata Bambina che corre sul balcone ad esempio Balla rende il movimento per mezzo della scomposizione della scena in una sequenza regolare di piccoli spostamenti lungo un asse orizzontale Il 22 settembre del 1929 viene pubblicato sulla Gazzetta del Popolo a firma di Marinetti, Balla, Prampolini e altri il manifesto dell'aeropittura futurista i cui temi guida si erano già delineati nel corso degli anni 20 Si tratta di un genere pittorico che in linea con il mito della macchina e della modernità caratteristici del futurismo manifesta l'entusiasmo per il volo e per il dinamismo e la velocità dell'aeroplano Per quanto riguarda la scultura, l'artista futurista più rappresentativo è lo stesso Boccioni che nel 1912 pubblica il Manifesto tecnico della scultura futurista La sua opera più emblematica è Forme uniche della continuità nello spazio del 1913 in cui il soggetto si dilata, si contrae, si frammenta e accoglie in sé lo spazio circostante diventando tutt'uno con lo spazio stesso Nelle arti figurative, seppur il futurismo si ponga in contrasto con molti temi portati avanti dalle altre avanguardie, quali cubismo, astrattismo, dada, surrealismo e metafisica con queste condivide l'obiettivo di trasmettere attraverso l'arte un impulso di rinnovamento e di trasformazione della società Aspetto specifico del futurismo è quello di non limitare la propria azione alle espressioni artistiche ma di voler reinventare la vita in ogni suo aspetto Uno dei più rilevanti manifesti futuristi è infatti quello di Balla e di Pero intitolato Ricostruzione futurista dell'universo Per quanto riguarda l'architettura, all'inizio del 1914 Antonio Sant'Elia pubblica il Manifesto dell'architettura futurista Al centro dell'attenzione dell'architetto futurista c'è la città vista come simbolo della dinamicità e della modernità In contraposizione all'architettura tradizionale, considerata inadeguata le città degli architetti futuristi hanno come caratteristica fondamentale le grandi strutture e il movimento e viene quindi data grande importanza ai trasporti A causa del primo conflitto mondiale e dopo la morte di Boccioni e Sant'Elia l'architettura futurista in Italia perde il suo slancio e lo stesso regime fascista gli preferirà un monumentalismo legato alla tradizione classicista In campo musicale uno dei maggiori esponenti del futurismo è Luigi Russolo pittore e musicista a cui si deve l'invenzione dell'intona rumori una famiglia di strumenti musicali che gli permette di sperimentare la sua teoria del rumorismo secondo la quale i suoni devono essere sostituiti dai rumori Il futurismo, come abbiamo accennato, si occupa anche di arte cinematografica e ne definisce le linee guida nel Manifesto della Cinematografia Futurista firmato da Marinetti, Corra, Balla e altri, pubblicato nel 1916 I futuristi sostengono che il cinema sia per natura arte futurista in quanto privo di un passato e di tradizioni disprezzano il cinema narrativo e promuovono opere fatte di viaggi, cacce e guerre auspicando la creazione di spettacoli antigraziosi, deformatori, impressionisti, dinamici, paroliberi rifiutano così tutto ciò che è convenzionalmente considerato bello e affascinante dalla borghesia preferendo usare come soggetti figure distorte temi che verranno poi ripresi anche dall'espressionismo tedesco come manifestazione della perdita di speranza da parte dell'umanità dopo la prima guerra mondiale Molte delle opere cinematografiche futuriste sono andate perdute durante la guerra ad esempio la pellicola intitolata Vita Futurista in cui alcuni uomini disturbano dei turisti nei bar di Firenze e poi scappano Tra le opere che sono giunte fino a noi ricordiamo Amore pedestre del comico torinese Marcel Fabre è una pellicola uscita nel 1914 che racconta una storia romantica non corrisposta inquadrando i protagonisti dal ginocchio in giù Il futurismo si occupa anche di gastronomia Nel 1914 ad esempio il cuoco francese Jules Mencave in nome del futurismo cui aveva recentemente aderito propone l'accostamento di nuovi sapori quali filetto di montone, salsa di gamberi, noce di vitello e assenzio banana e groviera, aringa e gelatina di fragola 17 anni dopo, il 20 gennaio del 1931 Marinetti pubblica sulla rivista Comedia il manifesto della cucina futurista in cui sostiene la necessità di eliminare la pasta asciutta così come forchetta, coltello e condimenti tradizionali e incoraggia ad accostare ai piatti musiche, poesie e profumi Citiamo le sue parole Vi annuncio il prossimo lanciamento della cucina futuristica per il rinnovamento totale del sistema alimentare italiano da rendere al più presto adatto alle necessità dei nuovi sforzi eroici e dinamici imposti dalla razza La cucina futurista sarà liberata dalla vecchia ossessione del volume e del peso e avrà, per uno dei suoi principi l'abolizione della pasta asciutta La pasta asciutta, per quanto gradita al palato è una vivanda passatista perché appesantisce, abbruttisce illude sulla sua capacità nutritiva rende scettici, lenti, pessimisti e, d'altra parte, patriottico favorire in sostituzione il riso Fine della citazione Marinetti muore il 21 dicembre del 1944 e gli artisti futuristi che gli sopravvivono e che sopravvivono anche alla seconda guerra mondiale cadono in disgrazia, accusati di aver fiancheggiato il fascismo Alcuni studi portati avanti nel secondo novecento hanno in parte riabilitato il movimento evidenziando anche l'esistenza di un futurismo di sinistra collegato ad ambienti comunisti anarchici e rilanciando l'impatto del movimento sia dal punto di vista artistico sia da quello sociale Nel 2009 si è tenuta presso il Palazzo Reale di Milano un'importante esposizione per il centenario del movimento intitolata Futurismo 1909-2009 velocità più arte più azione Il centenario del futurismo ha contribuito inoltre al rilancio internazionale degli studi sul movimento e sul ruolo della donna al suo interno che ha il suo apice in una grande esposizione del 2014 al Guggenheim Museum di New York Molto bene, questo è tutto spero che questi video vi siano utili come sempre vi faccio un grande in bocca al lupo per i vostri esami Alla prossima!